Il ministro della Sanità tedesco Jens Spahn ha spiegato che i primi a vaccinarsi contro il Covid-19 in Germania saranno le persone con più di 80 anni e i dipendenti delle case di riposo. Vorrei invitare tutti noi ad avere pazienza di fronte a questa situazione, ha detto il ministro in conferenza stampa a Berlino. Quando i lender inizieranno le vaccinazioni, probabilmente il 27 dicembre, le dosi saranno limitate e l'ordine è chiaramente definito. Prima le case per anziani, coloro che ci vivono e che ci lavorano e chi ha più di 80 anni. La verità è che ci vorrà almeno uno o due mesi per raggiungere l'obiettivo di proteggere i più deboli per primi. Solo allora potremo pensare di allargare l'offerta un po' alla volta nel quadro del regolamento per le vaccinazioni.